E' diventata una faccenda molto personale. Lo sai, adesso che ti guardo meglio, mi sembra che tu non ti hai cambiato tanto dai tempi dell'università, sei sempre il solito bamboccio. Senti Chiara, io... Io non pensavo che questa fosse un teppatesco, un treprendente avvocato palladini, a averlo saputo mi sarei messa qualcosa di molto più scollato. Chiara, io... Questo per essere una cena di lavoro. Questa causa si è rata la testa, caro. Grazie per la cena. E scusami se non rimango per il dessert, ma devo andare a casa da mio marito, caro. Grazie.